Scusi Giletti, scusami Massimo, io non riesco a capire perché Leali adesso improvvisamente con una personalità diversa dalla scorsa puntata e da quella ancora precedente abbia deciso di fare l'avvocato di Genovese. Cioè perché? Che tra l'altro, scusi, lei è pure indagato, ma si faccia un pacco di fatti suoi su questo se non vuole avere un atteggiamento. Io non faccio l'avvocato di Genovese, io gli ho detto che dico la verità, io dico la verità. Ma come fa a dire che lei, ma lei non c'era lì, lei non c'era lì, lei non c'era lì, lei non era in quella stanza, lei non era in quella stanza, lei non era in quella stanza, per avere questa certezza lei era in quella stanza. E Allora, lei non era lì, lei non era in quella stanza, lei non c'era lì, lei non c'era lì, non c'era lì, le ali non c'era lì, le ali non posso. Le ali, mi posso chiederle.